La videosorveglianza a Mussomedi Sintaco Catania, tanti problemi a Mussomedi, ecco una segnalazione sulla videosorveglianza. Come funziona questa videosorveglianza se lo chiedono in tanti? Produce i suoi effetti? Assolutamente sì, considerando il fatto che noi abbiamo oltre 50 telecamere piazzate in tutto il territorio urbano e queste telecamere sono certamente un deterrente nel senso che funzionano perfettamente. Ovviamente come tutte le attrezzature quando capita qualche guasto immediatamente si mettono in campo le azioni per risistemare. E quindi le videocamere sono perfettamente funzionanti e soprattutto registrano ore e ore di filmati. E' chiaro che laddove ci viene segnalato qualche situazione particolare, quindi con indicazioni di orari e di specifici punti, immediatamente il Corpo di Polizia Municipale, che è l'unico che ha accesso alla videosorveglianza anche per una ragione di privacy, chiaramente, immediatamente si attiva per prendere visione dei vari filmati che vi sono e laddove tra l'altro anche le forze dell'ordine molto spesso diciamo, fruiscono delle videocamere proprio per le loro attività ordinarie. Quindi chiaramente è uno strumento prezioso che è al servizio della comunità e quindi può essere utilizzato anche in occasione di questi recenti furti. Adesso chiaramente le forze della Polizia Municipale stanno facendo i loro approfondimenti e quindi vedremo se ci sono delle immagini che possono consentire di attenzionare eventuali situazioni sospette. Grazie!